ciao a tutte ragazze ciao a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video ebbene sì sono tornata dopo due o tre giorni di difficoltà ma vi spiegherò tutto nel vlog che sto girando oggi quindi insomma lo vedrete dopo questo video ebbene sì qui accanto a me c'è la degusta box di maggio non vedo l'ora di aprirla insieme a voi non ho assolutamente aperto nulla perché faccio tutto insieme a voi sono stra curiosa di vedere le novità di questo mese ed è una nuova collaborazione con degusta box che ringrazio tantissimo per avermi dato l'opportunità di provare questa questa scatolona piena di cose buonissime immagino adesso lo scopriremo insieme però sono sicura che sarà così bando alle ciance io direi di iniziare ad aprire mi sono portata le forbici per appunto rompere lo scotch wow allora già il motivo mi piace con tutti i produttini salamini cioccolato tutto disegnato e poi andiamo a vedere come si presenta questa box ha questa carta velina sopra sigillata con scritto aprila degustala e condividila wow allora 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 all'interno abbiamo delle cartoline pubblicitarie quindi questo qui questo qua del prodotto biologico con un buono sconto e qua la descrizione della box con un contest anche da cui partecipare e sicuramente parteciperò allora dietro ci sono tutti i prodottini che hanno messo all'interno allora in questa cartolina ci sono tutti i prodotti che ci sono all'interno con spiegazioni prezzi e quant'altro quindi vi andrò a dire ovviamente anche tutti i prezzi ed è una box che si ispira al picnic quindi il tema di questo mese è il picnic che trovo una cosa carinissima tutte cosine diciamo portabili in giro quindi trasportabili ovunque si voglia che può essere al lavoro un picnic insomma tante cose direi di iniziare perché sono già super curiosa che non perdere altro tempo allora qua abbiamo i crumiri al cacao della b stefani crumiri al cacao prezzo 2 euro e 09 e sono questi qua effettivamente non li avevo mai visti al cacao con finissimo cacao selezionato sono molto curiosa però voglio prima vedere tutto quello che c'è all'interno di questa fantastica box poi qui abbiamo le patatine buone come quelle fatte in casa di salati preziosi a pomodoro e basilico con meno 30 per cento di grassi e già la cosa mi aggrada parecchio eccole qui poi tutto molto ben confezionato con queste pallette mettiamola così non so come chiamarle poi abbiamo questo qui che mi piace già tantissimo dell'arnaboldi ed è un riso rosso con piselli porri e maggiorana biologico vegan ok per chi è interessato appunto al genere senza glutine senza lattosio senza grassi e aromi aggiunti ad alto contenuto di fibre 16 minuti di cottura per due persone 175 grammi da gustare anche fredde quindi questa è un'ottima soluzione anche per l'estate oppure per quando si vuol portare qualcosa al lavoro appunto per un picnic e non si ha la possibilità di scaldarlo quindi fantastico questo lo proveremo sicuramente in un blog poi per la felicità di riccardo e federico che adorano le goleador ci sono queste nuove goleador qui carinissima confezione ditemi cos'è questa confezione a forma di maglietta del calciatore top player busto arancia ho dimenticato di dirvi il prezzo del di questo riso rosso lo dico subito 2 euro e 49 2 euro e 49 questo qui ed è della sezione bio che fa parte appunto in questo mese della box e invece queste goleador qui un euro e 99 ci sono queste merendine otto pezzi senza lattosio del riso scotti sono tipo sì dei fagottini no delle proprio dei trancetti con farina di riso senza olio di palma e proteine del latte fantastico questo è per federico top e queste qua costano 2 euro e 69 poi sono felicissima di questo perché è una novità 2019 c'è anche il bollino della deve lei e della salsa che dar noi amiamo la salsa che dar è veramente buonissima quindi magari proveremo insieme in qualche blog a fare gli hamburger fatti in casa che sono qualcosa di spettacolare poi a rechi vengono benissimo gli hamburger fatti in casa e quindi ovviamente andremo a provare questa salsa che dar quindi stay tune e questa qui costa 2 euro e 19 salsa che dar devi deve lei 250 ml ovviamente squeeze poi abbiamo questa bevanda a base di cocco e riso da agricoltura biologica o ht a lunga conservazione ed è questa qui della gioia dovrebbe essere leggersi gioia non lo so l'irresistibile gusto della noce di cocco in pratica e confezioni da 200 ml la bevanda di cocco bio si è data in ogni borse ti viene in soccorso quando sei in giro e voglia di cocco fantastica con la cannocetta sul retro ideale per scuola sport e ufficio se consumata fredda e particolarmente rinfrescante fantastica questa non vedo l'ora di provarla perché io sapete che amo follemente il cocco poi abbiamo questi qua questi quasi quasi li provo subito bastoncini di salame e grissini ragazzi questi li proviamo insieme allora c'è una doppia confezione con i grissini e il salame e io l'assaggio ho deciso c'è la pratica linguetta basta tirare c'è un profumino di salame ragazzi io ho fatto astinezza di salame per nove mesi e adesso mi rifaccio buonissimi ragazze prendetelo se siete amanti del salame veramente buonissime sono della marca citterio non riesco a smettere ma devo continuare il video poi abbiamo queste merendine pick up ah dimenticavo come sempre dimentico sempre tutto il citterio 1,29 euro queste qui sono le merendine pick up ciocco della marca palsen e queste qui 1 euro e 69 ce ne sono 4 queste qua devono essere qualcosa di spettacolare abbiamo questi biscottini qua ricoperti di cioccolato sempre della marca palsen si chiamano messino e questi qui soffice pan di spagna ricoperto da delizioso cioccolato fondente e ripieno di marmellata di arance sorprendente nel gusto unico tra i biscotti provalo in frigo e lasciati sorprendere lo metterò in frigo sicuramente quindi questi qua poi in questa questo diciamo si chiama l'uribol c'è questa bevanda qua che fa parte sempre della sezione bio della monvisia eccola qua ed è un'aranciata bio non gassata monvisia con succo di arance bio di sicilia e zenzero l'unica aranciata bio senza anidride carbonica con zucchero di canna per darti il massimo del gusto senza appesantirsi fantastica anche questa la assaggiamo verrà così perché non ho un bicchiere sotto mano buonissimo sa proprio di arancia e si sente il pizzichio dello zenzero quindi super 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 ingredienti ottimi succo di zenzero succo di limone zucchero di canna biologico wow poi ultimo prodottino ma non meno importante questi cracker integrali della mulino bianco ce ne sono 20 porzioni 99 calorie per porzione col meno 60 per cento di grassi saturi ovviamente di nuovo dimenticato di dire il prezzo ma la monvisia 1 euro e 99 invece questi qua che sono super buoni secondo me perché li avevo già provati mi pare forse normali non mi ricordo no la nuova ricetta ma c'erano già integrali se non erro e questi qua 1 euro e 99 scopri in anteprima la nuova ricetta dei cracker integrali di mulino bianco tutta la bontà e la semplicità dell'integrale solo con 99 calorie per monoporzione quindi sono dei pacchettini di cracker integrali mangio un altro stick questi qua veramente sono una bomba vi farò sapere anche degli altri prodottini e stavo pensando di fare un video sui finiti del mese alimentare quindi fatemi sapere nei commentini se vi potrebbe piacere come idea magari a mettere insieme alimentare non ma pensavo di farlo proprio sull'alimentare questo è tutto quello che c'era all'interno della degustabox di maggio io spero che il video vi sia piaciuto che vi abbia tenuto un po' di compagnieri grazie ancora degustabox per questa opportunità e per questa collaborazione insieme se anche voi siete interessati alla degustabox io vi lascio tutti i link del caso qui nell'info box così avrete l'opportunità di provarla anche voi anche perché si può provare finché volete non è una cosa per forza a lungo termine potete provare anche voi le novità che usciranno nei supermercati quindi queste cosine che avete visto le trovate già nel supermercato e niente io vi mando un bacino ci vediamo prestissimo con nuovi video ciao